Musica Utilizzava documenti e buste paga falsi per commettere truffe. La squadra volante di Pescara ha arrestato un 65enne campano trovato in possesso del materiale contraffatto che gli avrebbe consentito di acquistare oggetti di valore e ottenere finanziamenti. L'uomo è stato fermato mentre era a bordo della propria auto. I poliziotti nel corso dei controlli hanno scoperto svariati prodotti high-tech di valore tra cui smartphone, smartwatch e auricolari wireless per un valore di oltre 2000 euro. Perquisendo a fondo il veicolo è emersa tutta una serie di documenti d'identità, tessere sanitarie, buste paga intestate a persone estranee e risultati poi contraffatti. I documenti erano stati meticolosamente confezionati e occultati sotto le plastiche dell'auto a cortezza però che non ha impedito gli agenti di intercettare lo stesso materiale e accertarne la contraffazione, nonostante i documenti fossero stati realizzati in maniera magistrale. Lo stesso per le buste paga che sono risultate emesse falsamente in prevalenza da aziende abruzzesi per renderle probabilmente più credibili come garanzia per l'accensione di un finanziamento in regione. Grazie a questi documenti il 65enne avrebbe potuto mettere in atto numerose truffe per migliaia di euro e acquistare beni di notevole valore. Sono in corso accertamenti per verificare dove i prodotti tecnologici siano stati acquistati e per riscontrare anche l'eventuale attivazione di prestiti. L'uomo accusato di truffa e possesso di documenti contraffatti è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa della convalida.